gentili telespettatori buona giornata ellie schline dice ma la mia proposta mica è da unione sovietica qual è la sua proposta prima di tutto non è la sua proposta è la proposta di dei grillini di sei anni fa che volevano un salario minimo a 9 euro lordi cari grillini potevate farlo sei anni fa avevate tutti i numeri in parlamento l'unica cosa intelligente era quella avete fatto il reddito di cittadinanza se voi non aveste fatto il reddito di cittadinanza non aveste fatto il salario minimo a 9 euro sei anni fa oggi dopo sei anni ci sarebbero stati sei rinnovi annuali un po come la scala mobile ecco 9 euro 9 euro dopo il primo anno si aumenta dell'inflazione poi quel nuovo aumento il secondo anno più con l'inflazione con l'inflazione poi arriva l'inflazione nel 2022 all'8 per cento il salario minimo aumenta dell'8 per cento quest'anno è al 6 per cento il salario minimo aumenta al 6 per cento quindi quel quel 9 euro di sei anni fa sei anni fa oggi sarebbe come minimo 12 euro lordi che sarebbe magari 8 euro netti 8 euro netti somma sarebbero stati 1500 1600 netti al mese invece cosa hanno fatto la schline non ha nient'altro che detto a conte va bene va bene il salario minimo che avete proposto sei anni fa 9 euro era sei anni fa 9 euro era sei anni fa non oggi non oggi oggi 9 euro non vanno bene ma lei dice che sotto i 9 euro sfruttamento sì ma sotto i 9 euro netti e sfruttamento non sotto i 9 euro lordi allora le minoranze propongono 9 euro lordi che sono 6 euro e mezzo netti quindi lei dice sotto i 9 euro sfruttamento sì sotto i 9 euro netti e sfruttamento netti netti non lordi 9 euro lordi è ancora sfruttamento elli ti presento se se ellis line è chiaro no non è chiaro ma neanche conte ma scusi conte ma quando avete vi siete messi d'accordo tu e la grande capa ma a uno dei due non è venuto in mente che quei 9 euro erano di sei anni prima che non sono più aggiornati al 2023 ma come vi è venuto in mente di fare la stessa proposta di sei anni fa ah forse per non esagerare facciamo un salario minimo che al di sotto del minimo lasciamo i lavoratori in povertà così magari la meloni lo accetta perché le aziende alla fine non dovranno sborsare più di tanto no non va bene lo dico a tutte e due giuseppi ed elli 9 euro sotto i 9 euro è sfruttamento sì sotto i 9 euro netti è sfruttamento il vostro 6 euro e mezzo è sfruttamento per questo che è invotabile ma ellis line parla di tante cose dice dopo il congresso abbiamo riportato il partito essere la prima forza di opposizione saldamente sopra il 20 per cento saldamente sopra il 20 per cento non mi sembra in alcuni sondaggi al 19 virgola 16 vabbè lei dice saldamente saldamente vabbè e vabbè dai lasciamogli dire saldamente sopra il 20 per cento dice mi sembra un bel balzo in avanti dice partivamo dal 15 sì lei letta gli lascia al partito al 15 appena arriva lei balzo non l'avevano ancora conosciuta non l'avevano ancora vista arrivare era già al 20 per cento mi stupisco che sia ancora al 20 per cento va bene ricordo dice che quando giorgia meloni fondò anni fa il suo partito chiedeva l'uscita dall'euro e allora cosa cosa vuol dire che cosa vuol dire cioè che tu all'improvviso in un'intervista dici ricordo che la meloni quando fondò il suo partito chiedeva l'uscita dall'euro è ok oggi non è il momento che ha fondato il partito ma il suo partito è al 30 per cento sono passato degli anni e uno può anche cambiare idea anch'io qualche anno fa potrevo essere no euro oggi posso dirvi se usciamo dall'euro ci crollano i palazzi addosso posso cambiare idea posso cambiare idea devo chiedere il permesso a elli e col fazzoretto rosso lo sguardo arrabbiato perché quando meloni parla in aula lei è spesso il giornalista dice sentite perché quando meloni parla in aula lei è spesso altrove non si sente a suo agio nei panni dell'anti giorgia dice ma io non interpreto il mio impegno come contro qualcuno no ma per una visione del paese diversa e comunque a ogni occasione di confronto che ho avuto con lei in parlamento e fuori non sono arrivate le risposte di cui il paese ha bisogno se una premier donna vuole sostenere tutte le altre donne servono misure come il salario minimo e congedo paritario allora se una premier donna e vuole sostenere le altre donne deve essere a favore del salario minimo perché perché il salario minimo è solo per le donne e vabbè dai è ellis line è leggenda no si sta scaldando no poi vediamo adesso poi come procede l'intervista quindi al fatto che lei è spesso altrove non risponde al giornalista poi si parla di zaki poveraccio è nato tre anni di galera però come diceva giustamente uno di voi è inutile star lì a raccontarla quello è nato in un paese dittatoriale e lì agiscono in quel modo dove non c'è democrazia punto in effetti chi di voi ha commentato così è proprio così noi ci strappiamo le vesti ma se quello è nato in un paese dittatoriale dove non puoi scrivere su un social network una semplice frase che ti dicono che sei uno che attenta alla repubblica repubblica ecco poi sul salario minimo se è perso lei dice inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte il salario minimo è una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 euro lordi altrimenti a sfruttamento non può essere legale l'emendamento soppressivo non è un dispetto a noi ma è un dispetto a 3 milioni e mezzo di lavoratori la misura poi sarà bocciata lei dice 75 per cento delle persone è favorevole al salario minimo beh su questo è vero ve lo dicevo anche prima poi hanno parlato di pnrr poi hanno parlato di nordio insomma e poi ha parlato un po della dei magistrati beh insomma nell'intervista che ha fatto al corrierone della sera ha praticamente fatto capire che tutto quello che fa il governo è grave è grave 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 però sue risposte sue proposte realmente non ce ne sono grazie a tutti e arrivederci a presto